Fino ad oggi non sono stati minimamente coinvolti nel piano vaccinale, già illustrato a livello nazionale dal commissario all'emergenza Francesco Figliuolo, dove infermieri ed assistenti sanitari, figure che dovrebbero essere essenziali per la vaccinazione, non compaiono. Da qui la delusione, di conseguenza la richiesta alla Regione, da parte di Laura Biagiotti, presidente provinciale dell'Ordine degli Infermieri, di modificare quel rapporto di esclusività che intercorre con l'azienda per la quale lavorano e che di fatto non consente loro di effettuare le vaccinazioni al di fuori dell'orario lavorativo. Un appello a nome di tutti i colleghi, compresi gli assistenti sanitari. Siamo rimasti come professionisti, come infermieri, veramente delusi da questa opzione, perché in questo piano vaccinale si parla semplicemente di figura medica. Io direi che sicuramente il prescrittore del farmaco e dei farmaci sono i medici e questo è un ruolo che nessuno toglierà loro. Però obiettivamente fino ad oggi, a tutt'oggi, tutto ciò che è stato gestito sotto le sedute vaccinali c'era assolutamente la presenza dell'infermiere e degli assistenti sanitari ed è una presenza inevitabile, indispensabile. Gli infermieri non mancano, non sono carenti nelle nostre strutture territoriali, ma bensì sono carenti per il fatto che non possiamo impiegarli al di fuori del proprio rapporto di lavoro. Significa che su Pesaro, che abbiamo circa 2370 iscritti, questi non possono comunque operare al di fuori dell'orario di lavoro nell'area vasta o nell'azienda Marche Nord. Oggi una piccola evoluzione c'è stata, l'avete letto dai media nazionali. Sì, abbiamo il nuovo decreto sostegni che ci apre uno spiraglio, di questo siamo contenti, dove hanno visto coinvolti tutti i nostri colleghi della Federazione Nazionale con Barbara Mangiacavalli, di questo ne siamo orgogliosi, dove danno l'opportunità circa 270 mila infermieri a tutt'oggi con un lavoro di rapporto subordinato obbligato, di poter operare per intanto muoversi liberamente sul territorio e fare sostegno alle vaccinazioni. Quindi sì a tutti gli accordi che abbiamo fatto, anche a livello regionale, ma le nostre aziende pubblico-private, il nostro settore della metalmeccanica, il nostro settore della falegnameria. Se non hanno un infermiere, ma non uno, più di un infermiere che possa operare liberamente insieme al medico, noi rischiamo di non fare nessuna vaccinazione di massa. In questo momento poi non dimentichiamoci il stracarico lavoro di tutti i nostri operatori sanitari, un appello per tutti, per carità, ma gli infermieri sono sempre in prima linea e non dimentichiamoci che sono da più di un anno che lavorano in emergenza, è difficile parlare con una mascherina. Immaginatevi voi prestare un'assistenza dove gente disperata, fame d'aria e soprattutto rischia la morte con i familiari che chiamano e c'è tanta tanta difficoltà emotiva. Non dimenticando che molti di questi infermieri si sono ammalati e sappiamo bene cosa significa ammalarsi e poi tutti i postumi di questa malattia e comunque non hanno mai smesso di lavorare. A tutt'oggi il carico di lavoro è elevato, le ferie purtroppo non possono essere date perché serve tanta prestanza nei reparti. Quindi un appello alla Regione di non dimenticare questa professione.